Gesù è dovuto nascere per forza? È bello questo per forza proprio, perché in un certo senso Dio non si accontentava di darci qualcosa, non si accontenta di darci un libro. Nel Vangelo Gesù un giorno parlando del Padre dice, il Padre ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Un libro era troppo poco e quindi Dio ha voluto darci la carne vera di suo figlio. Quindi stiamo proprio con gli occhi spalancati nel Natale a guardare la libertà, proprio i bambini con la L maiuscola di Dio che ha voluto farsi carne. Noi non andiamo davanti al presepio per vedere un bambino piccolo, noi andiamo davanti al presepio per contemplare questa libertà di Dio che si fa carne. Ed è questa che commuoveva San Francesco. E come si è realizzata in concreto questa libertà, chiedono i bambini, come è successo, come è nato Gesù? Secondo me per dire questo bisogna tenere la verità del racconto del Vangelo così come è stato, però le parole sono importanti. Vi faccio un esempio. Per dire come è avvenuto lo Spirito Santo di Dio, lo Spirito Santo di Dio, quindi quello che c'è dietro la creazione dell'universo, delle stelle, dei mari, degli alberi. Lo Spirito Santo di Dio ha raggiunto, ha abbracciato, ha riscaldato, ha infuocato il corpo, il grembo di Maria. Solo il problema è che io mi sono reso conto che come catechista ho dovuto un po' superarmi, superare la vergogna di parlare ai bambini e usare delle parole che sono delle parole un po' che non si usano tanto, però che sono molto più efficaci, per dire che lo Spirito di Dio ha veramente raggiunto Maria nella pancia, non si può dire la pancia, ha raggiunto Maria nel grembo, questo luogo che è per generare la vita. La pancia puoi scoprirla per far vedere l'ombelico, invece il grembo è il luogo che deve custodire il mistero della vita. Grazie a tutti.